A volte penso che quella notte mi abbia segnato. Ogni cosa che è avvenuta dopo... ...non può essere stata una coincidenza. A terra! Stenditi a terra! Subito! Desostandati! Abbiamo arrestato un ragazzo ieri. Può esserci qualcosa che ti interessa? Danny, non sembri affatto una persona pericolosa. Puoi dirmi come sei finito qui dentro? Sfigato! Ehi! Mi hai fatto sospetto! Ti prego, vi! Via! Vuoi entrare a darti una ripulita? Ora sei al sicuro. E non ti è sembrato strano che quest'uomo fosse apparso per salvarti? Mi sono ritenuto fortunato. Sei mai stato fortunato? No. C'erano vetri ovunque. Segni di collottazione, sangue sul pavimento. E invece la ragazza? Nessuna traccia. Credo che abbia ucciso anche lei. Che hai combinato? Non è stata una sparatoria casuale. Lui nasconde qualcosa. Che è successo in quella casa? Dove sono finiti tutti? Ho dei vuoti di memoria. Non sono le uniche persone vicine a te che sono scomparse, vero? Credi che queste siano vittime? Non vedi che tutto ciò può far sembrare che fosse una tua idea? Aspetta, pensi che sia io a tirare i fili? E se dicessi che è così? Ti sbagli! Io sto cercando di aiutarti. Non ho sparato a nessuno. È meglio che si dichiari colpevole. Sono tutti coinvolti nella storia. Se ho ragione, Danny può essere innocente. Cosa non mi stai raccontando? Cosa non dici a te stesso? Cosa non mi stai raccontando?